Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video ed è il video dei prodotti finiti cibo e casa di marzo sulle labbra ho Riveshing Rose di Avon in sottofondo c'è Lucia che nel momento lo sta tenendo il padre ora vediamo se riusciamo a fare il video allora, cibo, sapete che sono stata da nutrizionista ormai fino a febbraio quindi un mese, vi voglio parlare bene, voglio fare anche dei What I Eat In A Day comunque vi faccio vedere i prodotti cibo e casa soliti e poi affronteremo più nel dettaglio l'argomento allora, ho terminato questi della Scottex, la carta da cucina a tutto fare con il lato morbido fantastico, fantastico, se in offerta le ricompro altrimenti no però come assorbono questo non assorbe niente, vi dico solo che io da quando c'è Lucia se sto per casa ovviamente la pulisco con i panni tuttofare, questi qua Scottex e poi metto in tasca se ho la vestaglia, insomma ho lavato la vestaglia con uno Scottex in tonso cioè non è che si è appallottolato, sgretolato, ho tirato fuori il fazzoletto dalla lavatrice era a 40 gradi, concentrifughe e tutto top poi ho terminato i fiocchi d'avena, questi qua della MyProtein, vi ho fatto diversi haul sono ottimi, ottimi nel rapporto qualità-prezzo poi questo pane di segale integrale d'agricoltura biologica che ho preso su Cortiglia vi ho fatto una sguota alla spesa, marca sotto le stelle, bio ottimo poi dato che mio marito non mi porterà Ikea, non so fino a quando ho trovato questi della Cookie, sacchetti apre e chiudi ermetici non sapevo che li facesse l'ho comprata all'S lunga comodissimi, comodissimi per porzionare, congelare ottimo poi restiamo sul tanto è misto ma sempre cibo con la dieta, ho conosciuto la bevanda al miglio ho trovato Isola Bio, questa è Natura Si avevo fatto delle storie su Instagram seguitemi anche lì, Prettivivi underscore ma vi lascio tutti i riferimenti in infobox buonissima la ricomprerò anche perché è prevista dalla dieta poi vi voglio parlare della bontà delle disane pompature ho scoperto arancia mediterranea e delizie d'inverno che ne aveva parlato mi spegni queste frutti di bosco non è da meno costano poco e sono ottimi senza dolcificare a proposito di dolcificare con la dieta non uso più dolcificanti, questo è stato l'ultimo questo sciroppo buono ma ho notato che tutti i dolcificanti vanno proprio a intaccare la flora batterica e mi creano degli scompensi elevati questo era al caramello, buonissimo ma io vi consiglio di non utilizzare dolcificanti in assoluto poi ultimo cibo, questo riso basmati integrale della ProBios, buonissimo buono buono buono, mantiene l'aroma tipico del basmati in più integrale e questo Polate Sport mi sono presa che mi era stato dato questo campioncino devo dire però che mi sentivo più energica che ci sono dei giorni in cui sto KO quindi mi è servito questo olio essenziale Christmas Magic, guardate allora ve ne ho parlato nel video dei prodotti finiti Beauty & Makeup per quanto riguarda l'acqua di Colonia ho messo delle gocce di queste, è venuta fuori benissimo e metto sopra i vestiti, non direttamente sulla pelle sopra i vestiti di Cia buono, lei è profumatissima ultimi prodotti per la casa allora, questo schiumativa candettina gel io ho notato che i prodotti, questi del WC sono quelli che consumo maggiormente e questa qua, Anitra WC, questa della TAC devo dire molto molto buono perché questo beccuccio va molto meglio sotto le bordature del water e in più, devo dire, candettina attiva fa della schiumetta che dà l'idea di ancora più pulito però non è un prodotto che vado a ricercare mi trovo comunque bene col gel candettina quello verde dell'S lunga ma questo non è affatto male ho terminato l'ammorbidente concentrato della fabuloso questo blu è fresco mattino ragazzi, l'odore è buonissimo è buonissimo quindi ho preso questo e ho adesso in uso uno col mandarino ma questo vince, 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 vince quindi è buono e resta sui capi quindi questo mi è piaciuto basta ragazzi il video dei prodotti finiti casa e cibo termina qui io torno da Lucia e noi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale leggete sempre l'info box e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi un bacio ciao ciao ciao